Ok, allora, l'altro ieri abbiamo visto negli esercizi le rette in R2, abbiamo visto sia l'equazione parametrica, sia l'equazione cartesiana. Ok, prima di passare a R3 voglio dire un paio di cose ancora, la prima cosa è una notazione sull'equazione parametrica di una rette in R2. Supponiamo di avere in R2 i due punti, P, P, A coordinate, diciamo, X1, Y1 e Q, A coordinate, X2, Y2. Se vi ricordate, l'equazione parametrica della retta passante per P e Q, supponiamo che P e Q siano distinti, Allora, per P e Q passa in R2, 1 e una sola retta. Qual è l'equazione parametrica di questa retta? La possiamo scrivere così, possiamo scrivere P più P volte U meno P. a variare di P appartenente a R. Questa è l'equazione parametrica della retta R, è passante per P. Chiaramente il disegno lascia, come al solito, a desiderare, ma più o meno P, è passante per P. Va bene? Questo l'abbiamo visto ieri. Se io metto l'origine qua, il punto P o il vettore OP, abbiamo visto, è la stessa cosa, l'abbiamo già detto più volte. Quindi la posso rappresentare così. V è interpretato come un vettore di R2, I più precisamente è x1, y1, Q è x2, y1. Perché i vettori noi dobbiamo di R2, come in R2, scriviamo in verticale, quindi qua in realtà è meglio mettere una T per dire che invece di mettere in verticale la T significa che l'abbiamo trasporto, cioè scritto in ordine di R2. Ok? Allora, andiamo a vedere che succede in particolare quando scelgo determinati valori di T. Se io prendo T uguale a 0, qui mi viene il vettore nullo, sommato a P mi da P. Per T uguale a 1, qui mi viene Q meno P, sommato a P, mi da Q. Quindi T uguale a 0, sto in P. T uguale a 1, sto in Q. Che succede secondo voi se T è maggiore di 1? Per esempio, quali punti andrò a descrivere della retta? Quelli che stanno da questa parte. Così come se T è minore di 0 andrò a descrivere quelli che stanno da questa parte. Se T invece è compreso tra 0 e 1, andrò a descrivere esattamente i punti del segmento PQ. Cioè PQ come segmento, anzi, chiamiamolo sigma PQ, segmento che parte da P e arriva a Q. Che cos'è? Non è altro che la stessa equazione di P, ma P, scusate, P, più T volte Q meno P. Solo che stavolta la T non varia su tutto R, ma è solo compresa tra 0 e 2. Quindi, vedete come la stessa equazione parametrica può dar luogo a una retta se considero T variabile in tutto R, ma a un segmento se considero T variabile in un intervallo limitato. In particolare, se considero T compreso tra 0 e 1, mi viene esattamente il segmento che parte da P e arriva a Q. Poi vedremo che in realtà se poi io cambiassi e invece di avere i vettori in R2 li avessi in Rn, sostanzialmente tutto questo discorso rimanebbe tale qua. che qui la forma di questa equazione parametrica chiaramente non cambia se io ho due coordinate, tre coordinate, quattro coordinate, però lo ripeteremo in ogni caso. Lo ripeteremo in R2 e qua, capirete che la descrizione di una retta in forma parametrica è la stessa di una retta in tutte le dimensioni. Comunque, torniamo invece al segmento. Il segmento si ottiene quando T è compreso tra 0 e 1. Adesso riscriviamo questa parametrizzazione in modo, nello stesso modo, soltanto, diciamo, riorganizziamo questi termini. Cioè, cosa posso scrivere qua? Posso scrivere P più TQ meno TQ, moltiplicano, la moltiplicazione per uno scalare è distributiva. Ma questo lo posso anche scrivere 1 meno T per P più T per Q. Quindi andiamo a riscrivere, abbiamo 1 meno T per P più TQ al variare di T compreso tra 0 e 1. Allora, qual è la conclusione? La conclusione è che la nostra equazione parametrica che ci dava la retta al variare di T in R, vedete, un punto fisso della retta più un multiplo qualunque della direzione. In questo caso, se vogliamo riscrivere solo i punti del segmento, semplicemente T deve variare tra 0 e 1, se la riscriviamo in questo modo, è una particolare combinazione lineare dei vettori P e 2. Che combinazione lineare è? Bene, noi abbiamo che T è maggiore o uguale di 0, 1 meno T è maggiore o uguale di 0 e T più 1 meno T fa 1. Cioè, come vedete, questa è una combinazione lineare di T e Q con due coefficienti scalari, entrambi non negativi. Questo è maggiore o uguale di 0, questo è uguale di 0. Però la loro somma fa... Ok? Allora, scriviamolo qui, definizione dati V1 VH appartenenti a V V è il solito spazio vettoriale in campo K si dice combinazione stavolta mettiamo spazio vettoriale su R vogliamo che il campo sia R si dice combinazione commessa una somma del tipo somma per H che va per J che va da 1 a H di alfa J VJ quindi esattamente come una combinazione lineare però con la restrizione che alfa J deve essere maggiore o uguale di 0 per ogni J compreso tra 1 e H e poi che la somma per J che va da 1 ad H Mentre due punti tale che tutti i coefficienti della combinazione siano positivi e la loro somma debba fare ok? poi vedremo vabbè è chiaro che una combinazione commessa di due punti di R2 cosa mi produce? siete stati attenti commessa commessa vuol dire questo vuol dire che un coefficiente è T e l'altro è 1-T ed entrambi sono positivi quindi che mi produce? segmento segmento e congiunto P se faccio P più T Q meno P ottengo tutta la rete che poi sarebbe 1-T più T Q però la differenza col segmento sta che se voglio percorrere tutta la retta la combinazione è dello stesso tipo ma T ma T l'area su tutto l'area se voglio percorrere il segmento i coefficienti devono essere tutti e due positivi più in generale se non vogliamo usare una sola lettera perché i vettori sono due ma vogliamo usare due lettere diverse per i due coefficienti se vogliamo una combinazione commessa oppure in generale se abbiamo H vettori e vogliamo quindi usare H coefficienti la combinazione è commessa quando? quando tutti i coefficienti sono positivi è la somma dei coefficienti qua vedremo in generale poi con degli esempi per esempio come funzionano le combinazioni commesse in R3 potremmo avere la combinazione commessa di 3 punti di 4 punti e così via anche qua potremmo avere la combinazione commessa di 3 punti però sostanzialmente i casi che vengono sono banali non li voglio trattare non aiuterebbero la comprensione generale ok quindi questa è la prima osservazione mettete da parte questo concetto di combinazione commessa la seconda osservazione invece è molto più profonda se vi ricordate riprendiamo l'equazione cartesiana di una retta per esempio scriviamo la retta di equazione x più y uguale 1 se vi ricordate questa retta non passava per l'origine perché questo termine il termine noto non era 0 e poi coefficienti ax più b in questo caso ho preso a e b uguale a 1 erano tali che se io prendo il vettore per esempio in questo caso no proprio a b se io prendo il vettore a b che succede a questo vettore rispetto a questa retta sono 8 con a ok adesso che succede se io cambio scrivo x più y uguale 2 oppure x più y uguale meno 1 ma se scrivo x più y uguale 2 avrò cosa avrò? disegno come alzate la lascio a desiderare ma avrò una retta parallela a quella di qui quindi se io adesso scrivo i in generale i più b uguale c se io faccio variare c e mantengo fissi a b che succede che tutte queste rette saranno parallele quindi in questo caso questa è x più y uguale 1 questa è x più y uguale 2 poi qui avrò qui avrò x più y uguale meno 1 comunque saranno tutte perpendicolari a questo vettore 1 o 1 o meglio al prolungamento chiaro? allora in generale se io scrivo l'equazione di una retta in forma cartesiana ax più b y uguale c che succede? che tutte queste rette sono perpendicolari al vettore a b e al variare di c si spostano mantenendoci parola qual è l'unica che passa dall'origine? quella di equazione x più b y uguale a c è chiaro qui? allora notiamo che questa quantità che sta scritta a sinistra io la posso scrivere in questo modo dove questa scrittura tra parentesi angolose con la virgola e mezzo non significa altro che in definizione la somma dei prodotti delle coordinate angolose quindi qua facciamo per esempio se devo fare x1 x2 si dirà scalare y1 y2 si farà x1 y1 più x2 y2 ok qua siamo in ever 2 ora questa espressione qui la chiamiamo questo qui per definizione si chiama prodotto scalare canonico in r2 poi ne vediamo le proprietà poi ne vediamo le proprietà però che cosa abbiamo capito intanto che quando il prodotto scalare canonico di due vettori fa 0 che vuol dire no quella è l'equazione di una retta un vettore fisso l'altro è variabile io sto prendendo due vettori fissi ne faccio il prodotto scalare e ottengo 0 che significa che sono ortogonali se voi prendete un qualunque vettore su questa retta sarà xy questo è ab quando andiamo a fare il prodotto scalare viene x più b e quanto va? 0 sono ortogonali 6 solo 6 e questo si può facilmente dimostrare ai reculzati un po' di geometri generali allora questo fatto ci consente di dare la seguente definizione un po' allora definizione allora x uguale x1 xn steine per n e y uguale y1 yn oppure steine per n che siano x e y due vettori di rn si dice prodotto scalare non prodotto per uno scalare prodotto scalare prodotto scalare prende due vettori e tira fuori un numero di rn prodotto scalare canonico l'espressione x virgola y scritto tra parentesi argolose con la virgola e mezzo alcuni invece della virgola mettono una barra verticale altri mettono x punto y preferisco questa notazione perché è quella che dà meno problemi di ambiguità com'è definita questa espressione come la somma per j che vada a 1 fino a n di x j per x ok adesso diamo quest'altra definizione la scrivo qua x e y drn dicono ortogonari o per vendicolari se sono 6 per la definizione il loro prodotto scalare è uguale questa definizione è giustificata dal fatto che in r2 corrispondi alla nostra ortogonalità e che in r2 anche lì sarà leggermente più difficile da verificare ma si vede che corrisponde alla usare ortogonalità diciamo geometrica quindi in r2 va bene in rn chiamiamo per definizione due vetture ortogonali se il prodotto scalato chiaro? ok allora andiamo a riesaminare l'equazione di una retta dal punto di vista allora qua faccio il disegno qui disegno una retta scrivo che ha l'equazione ax più by y uguale c e poi vado a disegnare la retta parallela a questa passando per l'equazione questa qua avrà equazione ax più by y uguale a 0 allora cerchiamo di capire perché l'unica cosa che cambia tra queste due rette parallele è che il termine 9 invece di essere 0 è c allora prendiamo un punto qui su questa retta qui allora questo p avrà coordinate x con 1 y con 1 mettiamo se no sembra che p debba essere ottoconale non allora questo p ha coordinate x con 1 y con 1 e prendiamo un punto q i coordinate x2 y con 2 ok chi è q meno p q meno p se vi ricordate la regola del parallelogramma io devo fare da qui la parallela a questo lato qui e questo vettore qui non è altro che q meno p questo perché qui più q meno p con la regola del parallelogramma questo rosa non è molto parallelo adesso un po' più parallelo adesso va un po' meno vedete ho la regola del parallelogramma p più q meno p faccio il parallelogramma mi viene da vedere un po' meno p deve essere questo non l'altro c'è non l'altro l'altro è t meno q ok se voglio fare se voglio fare p meno q devo fare quest'altro parallelogramma io terrò qui il vettore un po' da qui ok q meno p però algebricamente chi è e allora qua mettiamo sempre la t perché i vettori li fanno spetti verticali quindi stavolta non è altro che x2 meno x1 y2 meno x2 ok allora andiamo a vedere che succede qui quando io vado a sostituire per esempio se vado a fare ax1 più by y1 quanto va a c questo lo so perché quello è un punto della retta che ha equazione ax più bx uguale a c questa qua ha equazione sta scritto qua ax più bx uguale a c e se ci metto x2 y2 ax2 più bx 2 quanto va c sempre c stiamo sempre sulla stessa retta proviamo a fare la differenza termini a termini quindi qua mi viene ax2 meno x1 più b y2 meno y1 uguale 0 perché c non c'è 0 allora vedete che se prendo Q meno P Q meno P rispetto ad A B al vettore A B che io non ho disegnato ma il vettore A B deve essere per forza questo o un vettore A B proporzionale questo sarà A B per esempio e qua lo dico perché deve essere ortogonale alle due e allora che succede? succede che quando vado a prendere Q meno P vedete che è ortogonale ad A B perché C meno C fa allora come posso allora prendo il vettore V prendo il vettore chiamiamolo W come posso descrivere vi ricordate i punti della retta questa chiamiamola R come si descrivevano in forma parametrica R era P più T volte Q meno P allora se io adesso vado a fare W scala P più T volte Q meno P che succede? questo non è una G questo non è una G W più virgola P più T volte P ecco una prima proprietà del prodotto scalare canonico poi poi vedremo che sarà la stessa proprietà di un prodotto scalare in generale è che se io faccio il prodotto scalare tra un vettore a sinistra e la somma di due vettori a destra questo deve essereUA scalare in generale a questa proprietà si chiama il secondo vettore a P volte Questa proprietà si chiama linearità a sinistra Linearità a destra, scusate Perché a destra c'è una somma Questa somma è stata portata fuori da questo In realtà Una parte della linearità Perché adesso c'è anche il fatto Che qui c'è un numero, uno scalare E questo numero si può portare fuori E questo rientra sempre nel fatto Che il prodotto scalare è lineare a destra Più t volte Più doppio Lo mando un po' più in atto Ok Ma allora Se adesso andiamo a vedere Che succede qua W scalare P Quanto faceva? Era AX con 1 più BY E faceva C W scalare U meno P Quanto faceva? Era questo Quanto faceva? Zero Quindi vedete Che Quando mi sposto sulla retta AX più BY Rimane Costante Perché? Perché voi avete la somma di due pezzi Uno è il prodotto scalare tra A e B Che è il vettore direttore Diciamo il vettore ortogonale alla retta E un punto fisso Si chiama vettore di traslazione Quello che ci serviva per andare sulla retta Pi potrebbe essere questo Come potrebbe essere Invece di questo Potrebbe prendere Q Invece di Q Potrebbe prendere un qualunque altro punto della retta Poi però Una volta raggiunto Una volta arrivati sulla retta Per muovermi sulla retta Mi devo muovere su una direzione Parallela Alla retta passante per l'oricchia Cioè Che quando vado a riportare come rettore Sta sulla retta passante per l'origine Ma Diciamo La retta passante per l'origine È esattamente Autogonale a W Quindi Mi posso muovere di quanto voglio Di T volte Q meno P Sulla mia retta Ma quando vado a fare il prodotto scalare E poi il prodotto otogonale Questo prezzo Guarda sempre C Quindi voi avete questa proprietà strutturale Su una retta qualunque A X più B Y Lo potete interpretare come il prodotto scalare Tra B e X Y Le coordinate che stanno sull'E Questo prodotto scalare È costante perché Lo potete scrivere come A X con 0 Più B X non 0 Più A X meno X con 0 Più B X meno X Dove X con 0 Y con 0 È un punto qualunque Della retta Allora questo Se andate a vedere Questo pezzo qui Fa C Questo pezzo qui Fa 0 E quindi la somma Fa 5 Quindi potete vederlo L'equazione cartesiana La potete vedere come un prodotto scalare Quando andiamo a sostituire l'equazione parametrica Al posto delle coordinate X Y Troviamo che Il punto Della retta Un punto generico Fissato Della retta Mi dà Un pezzo Che vale C E lo spostamento Lungo La retta parallela Passante per l'origine Mi dà E questa è una proprietà Di struttura Di come è fatto Quel prodotto scalare Diciamo Come sono fatti I valori Di quel prodotto scalare Lungo La mia retta Vedremo Di questa proprietà La e la incontreremo Quando faremo Un sistema Lineare Questa è un'equazione lineare Potremmo fare Quando faremo Roussia e capete Faremo un sistema lineare Vedremo Che la soluzione Del sistema lineare Tutte le soluzioni Del sistema lineare Possono essere date Da una particolare Soluzione Del sistema lineare Per esempio questa Sommate A una generica Soluzione Questa qui Che cos'è X meno Z Y meno Y Z E' una soluzione In questo caso La stessa equazione Con il termine E' una soluzione Il caso Che c'è il capelli Sarà una soluzione Dello stesso sistema Si dice omogeneo Cioè con un termine Non più o meno Quindi questo vale Non solo per l'equazione Ma anche per il sistema Ma questo lo vedremo a sto tempo Lo ripeteremo E' chiaro? Ok Però per fare questo Ci è servito Il concetto Di Prodotto Scalare Canonico Di elemento Quindi se no Tutto rimaneva un po' appeso Senza le opportune definizioni Tutto si poteva Intuire Molto peggio Chiaro? Siamo qui Allora Vediamo ora Ci sono ancora 7 Allora Facciamo prima un riepito Allora Noi abbiamo visto L'altro giorno L'equazione parometrica E l'equazione cartesiana Di una retta In forma generale Allora Oggi cosa abbiamo visto? Che nell'equazione parametrica Della retta Se io prendo Il coefficiente Diciamo T No? Quindi l'equazione parametrica Della retta Ha Una struttura Punto della retta Pi più t Più t Più t Pi che è la direzione Della retta Allora Quando vado a fare questo Se t invece di farlo variare in R Lo faccio variare soltanto da 0 e 1 Invece di tutta la retta Attengo soltanto Il segmento che parte da p E arriva a p E questo mi da riscrivendo quella che si chiama la combinazione commessa di 11 poi invece quando vado a vedere l'equazione cartesiana se prendo la mia stessa retta in forma cartesiana si scrive con un'equazione stavolta, allora, prima di tutto l'equazione parametrica si chiama equazione ma in realtà è una descrizione cioè è un insieme di tutti quei punti che si ottengono a variare di P P più T volte come la variata di T riempie la mia retta vedremo che la mia retta è un oggetto di dimensione 1 si chiamerà spazio affine di dimensione 1 perché per riempirla ci basta un parametro stavolta invece è in forma cartesiana la stessa retta a equazione AX più BY uguale a 0 cioè, se lo vogliamo descrivere come insieme è l'insieme di tutti gli XY tali che AX più BY uguale a C ok, quindi che cosa succede? che noi stavolta facciamo tutto il contrario partiamo dal piano tutto il piano e andiamo a imporre una condizione la condizione è data da un'equazione lineare AX più BY uguale a 1 ok, quindi non sono più tutti i punti del piano siccome l'equazione è 1 praticamente cosa succede? che scendiamo dal piano a un oggetto uno spazio affine di dimensione 2-1 perché abbiamo imposto una condizione che è di nuovo 1 perché affine? perché in generale questo insieme qua non è un sottospazio non passa per loro a meno che C non sia uguale a C poi ricordando che la mia letta R in forma paramedica i punti della mia letta R si scrive in forma paramedica in più di volte U-T e osservando che in forma cartesiana l'equazione dice che il prodotto scalare quindi il concetto di prodotto scalare canonico in R2 e poi anche in generale in Rn l'equazione cartesiana che significa? significa che il prodotto scalare tra il vettore AB che abbiamo visto il vettore ortogonale alla retta e un punto generico della retta è costante pari a C ma perché è costante pari a C? perché quando io vado a sostituire P più PQ e vado a sviluppare mi viene AB scalare P più T volte AB scalare Q-Q ma AB scalare P fa C perché è un punto della retta AB scalare Q-P fa 0 perché Q-P è un mettore che sta sulla parallela passante per l'olite che è ortogonale ad AB e quindi vedete ritroviamo che il punto generico della nostra retta espressa però in forma cartesiana effettivamente soddisfa l'equazione espressa in forma parametrica soddisfa l'equazione cartesiana e quindi vediamo tramite questa uguaglianza possiamo verificare che o lo scrivo in forma parametrica o lo scrivo in forma cartesiana la retta è sempre la stessa è chiaro fino a qui? quindi non c'è nulla di complicato bisogna semplicemente fare un po' di esercizi abituarsi e farci un po' la mano adesso prima della pausa dovrebbe essere che c'è ancora un paio di minuti si andiamo a vedere che succede in R3 allora che succede in R3 allora cominciamo a fare un attimo momento locale in R3 lo spazio vettoriale l'abbiamo dimostrato come di a dimensione 3 quali sono i sottospazi vettoriali di R3 allora un sottospazio vettoriale è a sua volta uno spazio vettoriale quindi essendo in uno spazio dimensione 3 quindi dimensione finita un sottospazio deve avere pure lui dimensione finita ma siccome la dimensione è un numero maggiore o uguale a 0 le dimensioni fino a 3 possono essere 0 1 2 o 3 non è che ci sono altre possibilità allora andiamo a vedere se la dimensione è uguale a 3 chi otteniamo? tutto R3 è banale forse se la dimensione è uguale a 0 cosa otteniamo? il vettore nulla anche lì è banale per forza perché appena abbiamo un vettore la dimensione è almeno 1 il vettore nulla e rimangono quindi gli unici due casi interessanti sono dimensione uguale a 1 dimensione uguale a 2 allora dimensione uguale a 1 corrisponderà che cosa? alle rette a una retta passante per le vettore dimensione uguale a 2 a un piano passante per le vettore quindi questi sono i due casi interessanti ora se vogliamo avere le equazioni che descrivono rette e piani in R3 cosa cambierà rispetto ai sottospazi vettoriali? cambierà che in generale prendo una retta in generale non passa per l'origine allora come si chiamerà? ma perché non passa per l'origine? perché lo spostiamo allora chiameremo sottospazio affini dimensione 1 i traslati dei sottospazi vettoriali e quindi una retta di R3 cosa sarà? un sottospazio affini di R3 di dimensione 1 invece un piano analogamente sarà un sottospazio in generale se passa per l'origine vettoriale altrimenti sarà un sottospazio affini di R3 di dimensione ok? e questa è la premessa adesso facciamo pausa ma dopo la pausa andiamo a vedere come però si modifica la situazione quando andiamo a considerare l'equazione perché la cosa adesso cambierà se seguo l'approccio parametrico e se seguo l'approccio cartesiano cambierà e vedremo come grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti